Buonasera, nella prima edizione di serale delle news del web marketing, ero a casa solo e ho detto, vabbè proviamoci, dai, fatemi sapere, soprattutto mi dite se sono apparto su Google News e Discover, mi farebbe tanto piacere, scusate, lo so che è una cosa inutile, però mi fa piacere. Allora, su Meta Business Site si può vedere quante volte è stato menzionato e taggato, molto molto interessante, il 72% degli utenti passano dai social prima di interagire con un brand, quindi tutto da studiare e da fare. Cosa ho imparato dopo l'analisi di 7 milioni di un log del file? Ragazzi, andate a vedere, ci sono un sacco di dati interessantissimi, passaggi su robots, sulle 404, veramente bello. Google Ads, finalmente si possono visualizzare le performance, dei posizionamenti delle performance max, super utile. Implementare dati strutturati, FAQ su Word, presto il plugin e le istruzioni, utile. Google My Business, quando tipo te apri una sede ma sei tipo dentro il centro commerciale e quindi Google pensa che tu sia davvero dentro il centro commerciale e facente parte di. Come risolvere questo bug? Molto utile. Fare PPC e SEO sul brand del competitor. Bello il PPC, ma soprattutto più interessante il SEO. PPC, cioè, si può fare, quindi andiamo a leggere come. Samrash acquisisce Backlinko. E-commerce, trending, crescita anche nel 2021, più 68%, è davvero tanto. Twinted, lanciato sistema di verifica dell'immagine con l'NFT, poche cosa curiosa. Instagram subscription, cioè la possibilità di avere alcune forme di Instagram a pagamento per dare più soldi ai creators. Da studiare. SEO di 2022, ricordi di avere empatia. La bella guida di Michele. Mostra la realizzazione del tuo prodotto. È vero, è importantissimo farlo, è davvero importante. Le immagini AVIF e WebP vanno una volta e mezzo meglio rispetto a G... Ah, sì, domani dico PNG, tre volte meglio rispetto a... Sì, vabbè, ci siamo capiti. Tre volte meglio rispetto a PNG e ancora meglio delle GIF, quindi facciamolo. Consulenza legale gratuita per le associazioni no profit. Questo è bellissimo, bellissimo. Complimenti, veramente bravi, non ci sono parole. A cosa serve index if embedded? Cioè, se hai embeddato, serve che te praticamente con questo nuovo parametro di Google puoi andare a dire a Google, comunque a me indicitelo. Però leggetelo, io non l'ho detto bene. Quick news, Google deduplica i contenuti uguali all'interno di una set. Questo ha un impatto importante, soprattutto per i news. Boh, andiamo a vedere. Quali domini hanno perso maggiore visibilità nel 2021? Wow. Google Ads, arrivano nuove opzioni di targeting B2B, ne avevamo già parlato, meglio non scordarselo. Amazon Style, la rivoluzione del shopping. Andate a vedere il video in descrizione perché non si può riassumere, ma se prendi piede una cosa del genere, è veramente una rivoluzione. Un italiano su 5 non va al bar, 3 evitano i mezzi pubblici. Ci stiamo facendo una specie di auto lockdown. Che impatto ha? Questi dati arrivano da Google Maps, quindi interessante, studiamoli, cerchiamo di capire in che direzione sta andando la nostra società. Pinterest Ads, non ce lo scordiamo, può essere molto utile, soprattutto in alcuni settori. Google Ads, aggiunte altre metriche all'opzione del grafico, si potranno usare le colonne personalizzate. Wow, super super comodo. Dal 26 gennaio il modello DataDriven sarà lo default su GA4, se non conoscete la differenza tra i modelli di attribuzione, correte al mettervi in pari. Il team italiano che inventò il PC, a lui vetti, che bello, la programma 101. Andiamo a leggere questo articolo perché fa tanto piacere. Al TG3 hanno parlato di un'intelligenza artificiale, ne avevamo già parlato forse più di un anno fa, dove grazie ad alcuni sistemi di intelligenza artificiale, semplicemente da una traccia audio, riusciamo a capire eventuali patologie. E in questo caso riuscirebbero a capire la presenza di Covid, che renderebbe molto più facile, insomma, efficace, poter fare una diagnosi, una diagnostica, eccetera, eccetera. Veramente, intelligenza artificiale fa dei passi al gigante. Attenzione, ovviamente, che poi sarà in mano a tutti, non lo so. Insomma, sarà difficile anche gestire la data privacy. Detto questo, invece che buongiorno, buonanotte, ciao.